Un uomo di 34 anni, residente in provincia, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento e atti persecutori nei confronti della ex moglie e del nuovo compagno. È accaduto attorno alle 22 di venerdì 8 dicembre, in centro a Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo. Alla vista dell'uomo, la coppia ha allertato subito il 112. I primi ad intervenire sono stati due carabinieri della stazione Vigezzina, che, sebbene liberi da servizio, in poco tempo sono riusciti a bloccare l'uomo che, incurante dei divieti, si era spinta a meno di 500 metri dalle due vittime. Per il 34enne è così scattato l'arresto. È la seconda volta che succede nel giro di pochi mesi. Ora il 34enne si trova ai domiciliari. La vicenda è iniziata lo scorso mese di giugno, quando la donna ha denunciato l'ex marito per aver smesso di corrispondere all'assegno di mantenimento per il figlio. Da quel giorno l'uomo ha cominciato a tormentarla con minacce e molestie. Ad agosto, nonostante il divieto di avvicinamento alla donna, al figlio e al nuovo compagno, stabiliti in seguito a una prima denuncia per atti persecutori, per cui è stata attivata anche il codice rosso, l'uomo aveva raggiunto la ex in centro paese, minacciandola e malmenandola, venendo così arrestato la prima volta. Dopo essere uscito dal carcere, era stato posto ai domiciliari, violando di ottobre e venendo quindi denunciato anche per evasione. In seguito le misure erano state inasprite. Oltre al divieto di avvicinamento, erano stati sanciti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e infine l'obbligo di firma.